Benissimo, il 2023 non è cominciato proprio nel migliore dei modi e sembra non procedere migliorando, ecco, mettiamola così. Insomma, Nebo va raccontato che arriveranno un sacco di novità interessanti nel suo video, io però vi ho anche detto nel video precedente che altre ci saluteranno, auto americane, auto sportive, certe se ne andranno e tutto, poi in più anche il blocco che ci ha lasciato è stato un po' un colpo al cuore, ma adesso, come avrete già visto magari in rete, un reparto sportivo intero se ne va. Perché come avrete magari già visto, Renault ha presentato l'ultima delle Megane RS, che si chiama, con molta fantasia, Ultime, dopo 20 anni di carriera di questo modello e molto semplicemente quando questa in edizione limitata uscirà di scena, porterà via con sé l'intero reparto Renault Sport. Perché con l'elettrificazione Renault ha deciso che per fare le future auto sportive elettriche ci penserà Alpine, che è un marchio che probabilmente ha molto più appeal sotto questo punto di vista, anche storicamente parlando, e quindi di conseguenza non avrebbe senso farsi autoconcorrenza interna. E quindi con la Megane se ne andrà anche Renault Sport. Quindi vi racconto un attimo come è nata la Megane, perché Renault Sport ha deciso di arrivare a chiudere proprio con la Megane, perché con questo segmento che è così importante, e perché secondo me questa storia ha a fondo le sue radici molto prima rispetto a quello che ci aspetterebbe, perché non è con la Megane che inizia. Renault Sport nasce nel 76 e c'è un motivo molto interessante. Quindi facciamo un bel salto fino agli anni 70. Renault si rende conto che l'Alpine a 110 è diventata un po' obsoleta per correre nei rally, e quindi di conseguenza la prende, la ritira, e si butta con la sua Renault 5 Alpine, che sostanzialmente non è nient'altro che una versione un po' più spinta dell'Arno 5 stradale che vende l'utilitaria popolare, la butta sui rally e si rende conto che non riesce a ottenere risultati. Perché? Perché naturalmente le concorrenti sono auto del calibro di Lancia Stratos, Fiat 131 Abarth, Talbot Lotus, Escort RS, insomma, auto molto competitive, ecco. Perciò rimette mano al progetto Renault 5 e anziché cominciare da capo creando un'auto su misura, come è fatta ad esempio con la Lancia Stratos, prende la sua utilitaria a cinque porte a trazione anteriore e gli ficca un motore centrale, quattro cilindri, posizionato dietro ai sedili anteriori, che rende l'auto una biposta a trazione posteriore e la rende leggerissima grazie a una serie di materiali che adesso vi dirò e la butta nei rally e quell'auto diventa ultra famosa. Siamo nel 1980 e quell'auto si chiama Renault 5 Turbo, un'icona, la Turbona, che sostanzialmente godeva di dettagli molto interessanti anche perché siamo degli anni 80, quindi ma sì, va bene tutto, perciò divertiamoci un po' e quindi ecco che ad esempio abbiamo un sacco di materiali differenti dall'acciaio per tenere basso il peso contenuto proprio, come ad esempio l'alluminio per il portellone o le portiere, ma anche ad esempio la resina per i parafanghi o ancora il poliuretano per l'alettone posteriore. C'è proprio una serie di dettagli apposta per tenere il peso ridotto devastanti e non solo perché ad esempio c'erano anche parti fatte proprio su misura per quella macchina lì, ad esempio la plancia interna non era condivisa con quella stradale, ma era fatta su misura per avere tutta la strumentazione con 10 o 15 quadranti, indicatori, spie e tutto quanto all'interno di un unico blocco, quell'unico strumento fatto solo per quella macchina lì in direzione limitatissima, solo per iscriverla ai rally, e naturalmente hanno fatto sì che il costo di quella macchina stradale finisse tipo alle stelle, ma tanto siamo degli anni 80 quindi va bene così. Poi si sono resi conto naturalmente, quindi dall'83 hanno cominciato a fare l'Reno 5 Turbo 2, che era praticamente identica, non aveva modifiche a livello meccanico, ma usava l'acciaio anziché il poliuretano e l'alluminio e la resina, e la strumentazione era diventata allineata con quella stradale. Però vabbè questa è una politica di riduzione dei costi che naturalmente era molto accentuata, però quella macchina lì è entrata nel cuore degli appassionati, Reno 5 Turbo, perché era proprio un'auto pazza, era proprio quell'auto fatta soltanto perché mi serviva un'auto da omologare nei rally per correre ed essere competitivo. Quindi ne faccio quante ne servono e poi mi lancio sui rally. Chi finisce in strada con quella macchina lì, se si ammazza non importa, più o meno. Io devo correre. Questa è la pazzia degli anni 80, che meraviglia di anni meravigliosi, poi soprattutto altissima sicurezza stradale, comunque fantastico, andiamo avanti. E dopodiché arriva quella che di fatto è stata la sua sostituta, che è stata, secondo me, di meno successo, ma non proprio nel successo in sé. Perché parlo della Renault 19, un progetto avviato nell'83, e capiamoci non è stata una macchina cattiva sotto qualche punto di vista, o comunque ha avuto anche un buon successo come auto. Però il problema è che si stava perdendo quell'idea di pazzia da Renault 5 Turbo. Per dare un'idea, sì, questa macchina segnava un punto di stacco, anche la critica la apprezzava sotto questo punto di vista, non era magari tanto innovativa, però segnava un punto di stacco, un punto di svolta dal design di Renault fino a quel periodo, e aveva degli interni fatti molto bene, un'ottima fattura per quanto riguarda l'acciaio che componeva la carrozzeria, era bello spesso, quindi c'era una bella qualità costruttiva, però, per darvi un'idea, nel 90 fu lanciata la versione di punta della Renault 19, che era l'erede della 11 Turbo e della 9 Turbo, quindi auto, sai, Turbo, cosa, eccetera, ed era una 1.800 16 valvole. Cioè, ok, 16 valvole in quel periodo voleva dire quasi più che Turbo, perché 16 valvole ancora oggi, per carità, però lo sentite, lo vedete che si è persa quella pazzia, quindi, boh, è finita qui, giusto? Sbagliato, perché dopo la Renault 19 arriva la sua erede, la Renault Megane. Ora, della Megane ne esistono tante versioni, la prima generazione è nata nel 1995, quindi, ricordatevi che la Renault 19 è durata 13 anni, quindi, complimenti, però, non importa, torniamo a noi. La Megane era disponibile in varie forme di carrozzeria, fra cui la berlina 5 porte, piuttosto che la Scenic, che era una monovolume, però quella che ci interessa adesso è la Koch, che in molti mercati era conosciuta come Coupé. Ora, questa macchina andava sostanzialmente a competere con auto come la Opel Tigra, o come ci assomiglia anche esteticamente parlando, come ad esempio la Ford Puma di fino anni 90. Però, qual è il punto? Non è tanto il motore, perché per carità aveva un 2 litri bialbero, sì, dello stesso della Clio Williams, derivato dalla Clio Williams, quindi il motore è molto interessante, però anche qua non è che siamo su la pazzia della Turbo. Però lo vedete cosa significa prendere una macchina, nata come berlina, con varie forme di carrozzeria, fatta apposta per essere spaziosa, popolare, comoda, tutto quello che vogliamo, prendere, ridurre a zero, praticamente, l'abitabilità posteriore, e non ce ne frega niente, perché vogliamo fare un'auto sportiva. Un'auto a trazione anteriore, leggera, dietro leggera, e quindi sia tendenzialmente sovrasterzante, divertente da guidare, e va bene così. Lo vedete che si risente un po' di quella pazzia? Questa qua è stata, secondo me, la rinascita di quello che poi sarà diventata la Megane RS, anche se di fatto non esiste un RS della prima generazione di Megane, ci dobbiamo accontentare della Coupé, che aveva un massimo di 147 cavalli. Però, a questo punto, passiamo al 2003, perché qui arriva la primissima versione della Megane RS, che all'epoca si chiamava Renault Sport Megane 225, sotto il cofano c'era un 2 litri 4 cilindri, perché in quegli anni, non è come oggi che una macchina sportiva viene spinta da un 1000 a tre cilindri, ma, se volevi fare un'auto da similarelli, prendevi un 2000 a quattro cilindri e lo ficcavi sotto il cofano. Era così. Stop. Ah, e naturalmente il cambio manuale, meccanico, a sei rapporti. Questo era proprio lo standard delle auto sportive inizio 2000, fino a 90 inizio 2000. Comunque, torniamo a noi. Questo quattro cilindri era capace di 225 cavalli, anche se qualche test di qualche rivista messicana dell'epoca giurava che sui rulli originale riusciva a segnare anche 250 cavalli e qualcosa in più. Che meraviglia. Comunque, abbiamo una macchina che, già nel 2003, riusciva a segnare 0-100 in 6 secondi e mezzo e velocità massima di 240 all'ora. 240 all'ora nel 2003 con una segmento B, il cambio manuale, cioè, che c'era lo servo sterzo l'ABS e forse controllo trazione, disinseribile probabilmente. Meraviglioso. Ok? Però, va bene. E poi nel 2005 Renault non era abbastanza contenta, quindi altra novità, arriva anche la versione Cup, la Cup Chassis, quella col traio Cup in pratica, che non aveva più potenza, però era più leggera di 10 kg e aveva anche un impianto frenante migliorato perché i dischi erano forati e il cilindro maestro era di dimensioni maggiorate. Quindi questo per migliorare la sua guidabilità, in un certo senso, perché comunque la guidabilità per le compatte francesi è uno dei punti fondanti. La trazione anteriore, tendenzialmente sovrasterzante, leggera, è un must per una francesina. Comunque, andiamo avanti, ma perché la più interessante forse di questa prima serie di Megane RS è la Renault Sport 230 Formula One Team R26.R del 2009. Questa macchina era più leggera di 123 kg perché non aveva più i sedili posteriori, non aveva più il climatizzatore, non aveva più gli airbag per niente tranne che per il guidatore. Questa macchina era un'auto da pista che poteva circolare su strada. La sentite? La sentite nell'aria Renault 5 Turbo? Prendere un'auto che nasce per la pista e poi dopo omologarla per la strada, praticamente. Non dico che sia nata veramente così, perché non è nata così, però si intravede questa filosofia di auto leggera, auto ridotta all'osso per la pista che puoi andarci guidando su strada ma stai andando verso la pista perché lì l'indirizzo, diciamo, la destinazione d'uso di questa macchina. Che bello! Ok? Questo è. Ci sono un altro paio di versioni degli di nota, ad esempio come quanto si credeva nel Casoglio, perché c'era anche la versione DC, 175 che era sostanzialmente un 2000 turbo diesel quattro cilindri da 175 cavalli ed era la più sportiva delle gasolio perché aveva l'SP disinseribile. Che meraviglia! Perché in quel periodo lì i gasolio erano molto meno sospetti, anzi c'era molta fiducia sui motori turbo diesel, quindi fare un motore turbo diesel sportivo ad alte prestazioni che consumava pure niente, tra l'altro, su un'auto piccola, compatta, sportivetta, divertente, era tipo la vita! Che bello! pensate che bello divertirsi senza spendere praticamente niente perché non consuma niente dieci anni fa, comunque, 2007 esattamente, comunque fa niente perché l'ultima è quella che probabilmente ha permesso a questo nome di entrare nell'immaginario comune come wow e cioè Trophy. Trophy oggi lo vediamo sull'auto di serie ma nel 2007-2008 siamo in quella zona lì la Trophy era sostanzialmente la versione fatta solo per correre, non era obbligata per la strada e aveva il telaio tubolare, aveva un motore devastante perché aveva un 3.5 V6 montato in posizione centrale con la Renault 5 turbo che però naturalmente non poteva andare su strada, questa qui con 330 cavalli ed era fatta solo per correre nel campionato Renault Euro Cup il fatto è che non aveva Grand Canyon in comune con la Renault Megane stradale però il fatto che avessero deciso di farla assomigliare così tanto a quella stradale aveva permesso a quest'ultima di essere più apprezzata perché io vedo una macchina che corre vedo una macchina che mi piace come corre sento sto cambio sequenziale a sei rapporti che cambia mentre fa casino con un V6 da 3.5 e io mi piace tantissimo e quindi quella macchina mi rimane capito una volta funzionava così comunque andiamo avanti perché questo era soltanto un dettaglio perché adesso andiamo alla terza generazione di Megane con cui arriva la seconda generazione DRS e cioè quella che si chiama Renault Megane 250 naturalmente come dice il nome il motore è sempre lo stesso 2 litri 4 cilindri con potenza aumentata a 250 cavalli che se vogliamo in quel periodo almeno fino a 10-15 anni fa era un po' il limite di potenza per le trazioni anteriori prima di renderle totalmente guidabili e costantemente sottosterzanti oggi non è più così però ci arriviamo quindi era proprio quello che potrebbe essere il pelo della potenza ebbene no perché naturalmente Renault ha deciso di fare anche una versione cap con telaio rinforzato alleggerito quello che volete differenziare da slittamento limitato ok ma anche una trophy 265 15 cavalli in più e finalmente si superava sia cioè si raggiungeva lo 0-100 in 6 secondi netti quindi arrivavamo a questo risultato ma soprattutto si superava la barriera di 250 all'ora si arrivava a 254 ottimo questo era l'obiettivo ce l'abbiamo fatta e qui arriviamo al un piccolo aneddoto molto interessante che fa capire quanto fosse forte la passione che ancora oggi c'è questa tipologia di sfida però quanto all'epoca proprio fosse così accesa non so come dire ecco perché parlo di Cupra che all'epoca non era soltanto Cupra ma era Seat Cupra prima che diventasse infatti il brand a sé che oggi Cupra era quello che Renault Sport RS e per Renault era per Renault ormai accidenti comunque quindi quando Seat fece uscire la Leon Cupra 280 la mandò sul Nurburgring e riuscì a stabilire un nuovo record di velocità sul Nurburgring per l'auto stradale di produzione a trazione anteriore con un tempo di 7 minuti 58 secondi e 4 decimi e naturalmente questa Renault non piace per niente quindi la differenza è che anziché andare laggiù con un pilota diverso e cercare di tirare fuori qualcosa in più e quello che può essere magari quello che si fa oggi miglioro l'aerodinamica metto quella riduco prendiamo la Renault Megane più potente che abbiamo oggi c'è la 265 gli mettiamo 10 cavalli in più la facciamo diventare 275 la chiamiamo Trophy R gli mettiamo uno scarico a Krapovic in titanio per fare ancora più casino tra l'altro perché la gente deve vedere che va più veloce e fa anche più casino andiamo e segniamo un nuovo record e infatti ce la fecero ce la fecero per 4 secondi 7 minuti 54 secondi e 36 centesimi di secondo non sono così tanti però questo dimostra quanto sia l'impegno nel affinare il più possibile tirare fuori il più possibile da un motore per un'auto che di fatto deve essere di produzione in serie quindi non puoi neanche sai giocare chissà quanto questo è l'attenzione a quello che può essere il Nurburgring che magari molti manco sanno più cos'è nel senso tutti sanno cos'è il Nurburgring ci fanno le foto spia ci fanno i collaudi ci fanno quello che volete però questa tipologia di sfide comincia ad andare un po' a scendere la gente comincia a non guardare più nemmeno quale auto sia la più veloce sul Nurburgring comincia a non scegliere più la macchina sulla base di quella che vince di più nelle competizioni ormai si sceglie la macchina per altri motivi e quindi le cose cambiano però va bene fa un po' male a me personalmente ma va bene è anche giusto che sia così da un certo punto di vista e quindi arriviamo all'ultima delle Megane RS cioè quella di quarta generazione che in realtà è la terza delle RS quella che praticamente vediamo ancora oggi anche se quella di oggi è di fatto un facelift molto recente ma questa qui divenne la più potente nella storia delle Megane RS perché godeva di tre versioni di cui due a 280 cavalli la Sport e la Cup e poi una 300 cavalli Trophy con il nome che vi dicevo che è entrato nell'immaginario degli appassionati eccolo qua Trophy che è rimasto così e a questo punto visto che entriamo nell'era moderna il motore da due litri se ne va e lascia il passo cede il passo a un 1800 quattro cilindri e io vi sento già che starete pensando eh ma 2000 molto meglio perché 1800 come si fa ok però è lo stesso motore che spinge l'alpina 110 moderna che a parere mio è una delle pochissime auto pure sportive rimaste così fedeli a se stesse nella loro filosofia storica da guidare per come sono fatte allo stesso motore insieme a questo arrivano anche di serie un sacco di innovazioni tecniche come ad esempio il cambio automatico dock a frezione a sei rapporti con paletta al volante e launch control il manuale non è più disponibile perché siamo entrati nell'era in cui bisogna fare il miglior 0-100 in assoluto perché un centesimo di secondo può fare la differenza perché è importante vabbè cioè adesso va bene il 0-100 è importante ma in modo generale ecco non è che se è 6-5 anziché 6-4 mi fa differenza comunque non importa e abbiamo quattro ruote strezzanti questo insieme ad altre raffinatezze tecniche permettono di superare di slancio quel famoso limite di 250 cavalli per le trazioni anteriori perché così l'auto rimane guidabile rimane molto potente molto oltre quel limite senza andare a minare quello che è l'handling la guidabilità di quella macchina che rimane una sportivetta compatta francese a trazione anteriore tendenzialmente sovrasterzante fantastico e sono contento che sia così e sono contento che anche l'ultima versione che hanno fatto cioè la ultima è quella che concluderà questo ciclo di vita nella buona sostanza è praticamente una 300 Trophy con però in più il fatto che si ad esempio già oltre alla lezione limitata i cerchi in lega specifici oltre a un sacco di dettagli estetici che la fanno riconoscere la rendono molto cattiva anche da vedere il fatto che esca di serie con le commissioni slick proprio cioè perché è una sportivetta è fatta per andare in pista per divertirsi ma andarci con la propria macchina in pista per correre in pista e poi tornare a casa e quindi con lei quando uscirà di scena va rappresentata al Salone di Tocchio 2023 ufficialmente almeno fisicamente e con lei poi se ne andrà un intero reparto sportivo che agisce e lavora da 1976 da 47 anni e che ha creato alcuni alcune delle icone forse dell'automobilismo moderno fino agli anni 80 comunque ecco e da un lato mi dispiace tantissimo perché vedere vedere tutti questi reparti sportivi che se ne vanno cioè come se domani mi chiudessero Anghe e BMW M cioè sarebbe abbastanza un lutto però dall'altra parte sono contento anche sullo che sia esistita perché dimostra di non aver paura di osare e ha dimostrato di non aver paura di osare perché negli anni 80 era facile prendere una macchina stradale e ficcarci un motore centrale quando nasceva a trazione anteriore e buttarci la trazione posteriore e cacciarla nei rally omologarne 200 400 per la strada e poi metterla nei rally negli anni 80 erano anni meravigliosi prendetela voi un'auto inizia anni 2000 come la Clio e ficcateci un motore 3000 V6 in posizione centrale e mettetele la trazione integrale o posteriore integrale comunque avete capito cosa intendo fatelo voi questo è secondo me il modo migliore per ricordare RS che di fatto ci saluta lasciandoci quella che di fatto rimarrà la più potente delle delle Renault sport stradali di sempre con 300 cavalli o almeno per quelle termiche che si sa cosa chissà cosa faranno magari tra 5 anni decidono di tornare con un solo elettrico o di un ibrido non lo so non credo però vabbè però grazie perché avete dimostrato di quanto sia importante usare perché usando poi piaci anche se magari fallisci anche se magari non diventi il campionato del mondo di 10 non so non è la Lancia Delta che ha vinto 6 volte di fila il campionato del mondo di rally d'accordo però la gente si ricorda di te perché tu hai preso una macchina che non era così l'hai modificata l'hai resa così e adesso la gente se la ricorda perché la pazzia rimane e piace quindi insomma siamo arrivati alla fine perciò fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate della Megane RS in generale di Renault Sport qual è la vostra Renault Sport preferita nella storia o magari anche solo qual è la vostra Renault Megane preferita nella versione RS fatemelo sapere qui sotto nei commenti noi ci vediamo al prossimo video sempre qui su Automoto e sperando che arrivino notizie migliori di questi continui AD di macchine di brand sportivi di auto sportive di tutto di più speriamo di qualche buona notizia ecco così grazie mille ci vediamo al prossimo video sempre qui su Automoto ciao ciao ciao